Questa sera ci troviamo ancora nella chiesa di Onia e ci occupiamo di un Sant'Antonio da Padova. E' appunto il Sant'Antonio da Padova dipinto anche lui, come la tele che abbiamo visto la volta scorsa, da Carlo Ceresa, maggior pittore bergamasco della seconda metà del Seicento. Vi ho dato nel presente che nel 1652 il Consiglio della città di Bergamo deliberò di proclamare Sant'Antonio da Padova, protettore del territorio bergamasco, ed ecco quindi il proliferare di moltissime di queste raffigurazioni di Sant'Antonio da Padova e Ceresa contribuisce a questa diffusione sia della raffigurazione sia del culto di Sant'Antonio da Padova con questa tela che si trova nella chiesa di Sant'Antonio a Donia e che fa da Pandà alla tela di Sant'Antonio anche se è di nove anni successiva. Anche Ceresa nella raffigurazione del Sant'Antonio ha una evoluzione. Da prima il Sant'Antonio era raffigurato con fattezze locali bergamasche, poi diventa invece un'espressione più mistica, più esangue, come questa qui. Si intuisce guardando il collo del santo, il cappuccio, quindi la committenza è anche legata ai cappuccini, ai francescani. In questo periodo bisogna ricordare che tra l'altro, proprio in questo periodo, ha una larghissima diffusione di conventi francescani, soprattutto quelli cappuccini, quelli riformati, quelli conventuali esistono già prima, esistevano. Ne abbiamo ben 14 in provincia di Bergamo e anche a Villa D'Ongi c'è il convento dei riformati, del convento di Sant'Aberto e il comunello lungo la strada tra Ponte Selva e Villa D'Ongi. Il Ceresa dipinge questo quadro nel 1662 con il benviso del bambino che forse richiama poco quello del figlio Giuseppe che era nato qualche anno prima. Sotto c'è lo stemma del committente che è un po' diverso da quello, anche se è la stessa persona, del San Arno che avevo visto l'altra volta. Lo stemma è arricchito rispetto a quello precedente con una stella dorata che sovrasta insieme a un piccolo uccello il compasso che invece era figurato nella parte sotto. E c'è la descrizione, ex munificenzia Petri, Fili, Quondam, Francisci Regibus e Maria Uxori, 1662. Quindi ci sono nove anni di differenza e in questo caso Pietro de Rege, il conte Pietro de Rege è rimasto orfano perché c'è il Quondam Francisci e nella committenza e quindi nella tela votiva ha associato anche la moglie. Il Sant'Antonio è rappresentato esangue nella sua tonaca grigia, bigia, curvo su un librone, su cui c'è il bambino e la tovaglia è coperta da una sorta di tovaglia piuttosto slavata, un grosso slavato. È ben rappresentato in questo caso l'esperienza dell'emozione mistica nella penombra di una cella conventuale con la meditazione solitaria. La stessa luce sui mezzi toni non scolpisce come era nella figurazione del San Narno ma invece qui accarezza e fa quasi la rappresentazione di un sogno mistico in una cella conventuale del Santo.